I grandi principi che possono sostenere il dialogo tra scienza e fede sono la centralità della persona umana, la destinazione universale dei beni e il principio che non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è perciò stesso eticamente accettabile. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando in Vaticano i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura che hanno messo a fuoco la questione antropologica nell'ambito della medicina e della genetica, nelle neuroscienze e nel contesto dei progressi fatti con le macchine autonome e pensanti. L'antropologia, ha insistito il Pontefice, è l'orizzonte di autocomprensione in cui tutti ci muoviamo e determina anche la nostra concezione del mondo e le scelte esistenziali ed etiche. E la vera misura del progresso è quella che mira al bene di ogni uomo e di tutto l'uomo. Dobbiamo esprimere la nostra gratitudine alle uomini e alle donne di scienza per i loro sforzi e per il loro impegno a favore dell'umanità. Questo apprezzamento delle scienze, che non sempre abbiamo saputo manifestare, trova il suo fondamento ultimo nel progetto di Dio che ci ha scelti prima della creazione del mondo, predestinandoci ad essere i suoi figli adottivi, e che ci ha affidato la cura del creato, coltivare e custodire la terra. Proprio perché l'uomo è immagine e somiglianza di un Dio che ha creato il mondo per l'amore, la cura dell'intera creazione deve seguire la logica della gratuità e dell'amore, del servizio e non quella del dominio e della prepotenza.